Il Centro Studi Gianni Oberto, istituito in ricordo dell'ex presidente del Consiglio regionale della Giunta nella prima legislatura, ha bandito un concorso per il conferimento di tre borse di studio destinate a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le università piemontesi. Il regolamento e la domanda sono scaricabili dal sito www.cr.piemonte.it